ciao a tutti e a tutti bentornati sul canale come state spero tutti bene ho ritardato un po' a fare i video perché ho avuto l'influenza e ho ancora la voce un po' rocca però adesso va meglio ho avuto la febbre un po alta e sintomi influenzali insomma mi è rimasta solo un bel po di stanchezza però vabbè passerà e quindi ho ritardato un po' a fare i video che avevo in programma anche perché ho lavorato pochino perché i primi giorni quasi 4 5 giorni l'ho fatti tutto il giornaletto quindi non facevo neanche maglie e uncinetto adesso va meglio insomma si riparte e nulla in questo tutorial vedremo come realizzare questo punto a coste all'uncinetto che vi avevo fatto vedere in un podcast e era piaciuto tanto anche a voi sembra fatto a maglia però è fatto a uncinetto è semplicissimo da fare e nulla adesso andiamo a vedere come realizzarlo prenderò un filato più chiaro in modo che si veda meglio per fare questo punto non c'è nessun multiplo potete fare quanti punti vi servono si lavora in orizzontale e poi si creano queste coste in questo modo possiamo farci qualsiasi cosa a me piacciono molto queste lavorazioni che ricordano il lavoro a maglia è abbastanza elastico come punto sembra quasi una costa due a due non proprio però è molto carino mi piace molto è double fa su guarda tutte e due le parti una cosa importante adesso vi faccio vedere quando iniziamo bisogna iniziare già dalla prima riga a fare il punto come preso come va fatto perché io avevo fatto la prima riga vedete in questo campione con le maglie lavorate normalmente e vedete che sfarfalla perché lavorandolo prendendo il punto come si fa stringe un pochino invece la maglia la mezza maglia alta la lo allarga quindi bisogna partire subito questo sim ve lo faccio vedere da da subito prendo un altro filo andiamo a montare le catenelle che ci servono facciamole un poche per vedere per fare il campione può bastare mettiamone ancora due scusate che prendo due marker un attimo come vi avevo fatto vedere nel video di come mettere i marker per non perdere i punti lo faccio sempre vado a fare una catenella per girare filo sull'uncinetto perché si lavora su una base di maglia bassa di mezza maglia alta salto una e qui vado a fare la prima maglia bassa di mezza maglia la prima normalmente e vado a marcarla perché così poi so che qua devo fare l'ultima del giro quando torna indietro allora come si lavora da adesso in poi anziché gettare il filo sull'uncinetto come si lavora normalmente la mezza maglia alta dovremo entrare in questa maglia qua vedete ci sono c'è l'asolina questa poi ce n'è una e due devo entrare qui entro nella catenella di base pesco il filo e ho i miei tre anelli della maglia mezza maglia alta praticamente e li chiudo tutti assieme quindi d'ora in poi andrò a lavorare in questo modo non getterò il filo sull'uncinetto ma entrerò in questa maglia in questa ultima barrettina vedete una due entro in questa e creo il mio primo anello poi entro nell'altra catenella di base ne ho tre e vado a chiudere e continuo così entro qua entro in quella successiva pesco il filo e chiudo entro qua entro nella successiva pesco il filo e chiudo entro nella successiva pesco il filo e chiudo entro nella successiva pesco il filo e chiudo e vado avanti così fino alla fine del giro lavoratelo morbido non stringetelo troppo è davvero semplice vedete non è niente di complicato però l'effetto finale è molto bello arrivo all'ultimo pesco il filo e chiudo e così ho fatto il mio primo giro di di lavorazione adesso faccio una catenella per girare che non conta come punto all'inizio facciamo il gettato perché serve e dentro qua nella prima maglia quella che avevo sotto nel giro successivo del giro precedente pesco il filo e faccio la mezza maglia alta vado a marcare la mia prima così poi non sbaglio tornando indietro perché anche in questa lavorazione in costa è facile sbagliare adesso devo lavorare nella costina posteriore quindi non devo prendere la maglia alta intera così la mezza della maglia devo entrare nella costina posteriore sempre lavorando come ho fatto prima quindi entro in questa barretta entro nella costina posteriore della maglia successiva pesco il filo e chiudo e vado avanti così entro nella barretta costina posteriore pesco il filo chiudo entro qua costina posteriore pesco e chiudo e vado avanti così fino alla fine del giro e andremo a realizzare tutti i giri in questo modo ricorda un po il punto alto collegato come lavorazione però la texture è completamente diversa perché si collegano praticamente una maglia all'altra col filo e chiudo entro qua costina chiudo entro qua solitamente l'ultima del giro io la prendo intera non prendo la costina così viene un lavoro più ben rifinito e col marker non sbagliamo perché siamo sicuri che qui abbiamo fatto e questa è la lavorazione dobbiamo fare i giri in questo modo adesso con il primo giro non si vede andando avanti poi vedete già qua si forma il rilievo della costina che poi qua ne farà altri facciamo un altro giro veloce catenella per girare filo sull'uncinetto entro qua io lo faccio subito così non sbaglio la maglia marco la mia prima e poi vado avanti barretta costina posteriore chiudo barretta costina posteriore chiudo vi consiglio di usare dei filati non troppo spessi perché il la texture viene abbastanza corposa quindi con un filato troppo spesso si rischia di ottenere l'effetto un po coperta a meno che non dobbiamo fare con una giacca allora magari se più spesso può anche andare bene ma altrimenti è meglio usare un filato non troppo grosso io questo lo sto lavorando con il 4 e mezzo è un filato di medio spessore vedete così andiamo avanti e si forma la costina vedete molto carina e poi andando avanti e otteniamo questo risultato qua che a me piace molto tutto qua il tutorial è il punto è davvero semplice e possiamo realizzare qualsiasi cosa anche un cappello facciamo una fascia poi la andiamo a unire e chiudiamola e stringiamo la sommità a me piace un sacco mi piacerebbe farci un maglione un cardigan con con questo filato e vediamo quando avrò tempo di realizzarlo il tutorial è finito spero che vi sia stato utile vi ringrazio per aver seguito anche questo video e ci vediamo presto ciao ciao